Per ritornare di un nuovo video del baddon ragazzi, oggi non avrei mai pensato di dirlo, gli zombie servono a qualcosa in questo mondo, perché sì ragazzuoli, gli zombie droppano oggetti OP, il nostro scopo di oggi, vabbè, ovviamente al di fuori di prendere gli oggetti OP, che è quello base, è vincere Minecraft battendo quello schifo di un drago, però in questo mondo c'è un piccolo problema, voi direte, baddi, ma per prendere gli zombie OP, basta che aspetti la notte, perché così poi vai tranquillamente nella notte e trovi un botto di zombie, invece no, purtroppo ragazzi, qua gli zombie, non è che non spawnano, però, purtroppo non arriva la notte. In questo mondo qui la notte è stata bloccata proprio per mettere quello cosina un po' più di difficoltà, diciamo, poi qui di fianco abbiamo un bel villaggino, quindi direi di andare subito al villaggino per vedere se riusciamo a prendere le cose. Facciamoci un paio di attrezzini e poi andiamo subito in caverna, perché ragazzi si sa oramai, eh, prima cosa da fare è andare subito in caverna, oh, però il cibo almeno ci serve, quindi piamoser cibo, piamoser cibo, piamoser regà, prendiamoci il cibo belli, tranquilli, belli nel cinico e facciamo due attrezzini. Io comunque ragazzi vi direi di lasciare un like solo per la mia bellissima camicia hawaiiana che abbiamo su oggi, ragazzi, mentre sto cercando una crafting, mannaggia a te villager che non sei altro, vorrei una stupida crafting, non delle stupide... Vabbè, vanno bene anche le ceste, non è un problema. Comunque, stavo dicendo, io sto cercando la stupida crafting, vabbè, ok, capito, la devo fare io, perché sennò qua finiamo domani mattina. Facciamo la nostra bellissima crafting, che ha a dire di fare un attrezzo, uno solo, perché mi servirà per uccidere gli zombie, raga. Praticamente non ci serve nemmeno questo in realtà, cioè ci serve per poco, per distruggere una casa e rubare un po' di stone per fare una cetta per uccidere meglio gli zombie, così poi abbiamo gli oggetti OP e non ci servirà più praticamente nient'altro, ok? Dovrebbe essere giusto il mio ragionamento, in teoria, spero, speriamo. Ok, adesso è arrivata quella cosa che non volevamo fare, ragazzuoli, ovvero dover andare giù in caverna a cercare degli zombie. Secondo me la caverna la possiamo trovare qua sotto. No, non è vero, dobbiamo andare da qualche parte a cercare una caverna, quindi ora andiamo. Ok ragazzuoli, stavo nuoticchiando e ho visto questa che mi sembra l'entrata di una caverna, però a quanto pare non è vero, mannaggia, mannaggia la caverna. Quindi siamo... aiuto? Aiuto per morire? Non è vero, sono troppo forte, non posso morire, cavolo, guarda qua! Oh cacchio no, mi sta bruciando, ok, forse posso morire. Vediamo, qui c'è uno zombie, ma non è lo zombie che voglio io, mannaggia te che c'è pure il forcone. C'hai, rompi scotolo che non sei altro. Oh cacchio, ci sto per morire, ci sto probabilmente per morire malissimo, ragazzi. Ci sto per morire malissimo, che salvataggio, mamma mia, ok, ora vado giù in caverna. Ok, perfetto, baddino vai giù piano, non ti preoccupare, non c'è assolutamente nessun tipo di creeper che vuole mangiarti l'interiore. Però lì c'è uno zombie, salve signor zombie, come sta? Tutto bene? Allora, intanto il creeper facciamo che non può salire da lì, ok, così ci... Oh cacchio, può salire! Ok, non avevo calcolato bene questa cosa. Ok, probabilmente non avevo calcolato bene nulla in realtà. Vabbè, comunque facciamo così, ragazzi. A noi piace il rischio, andiamo giù. Ok, ragazzi, voglio vedere cosa mi droppa lo zombie. Siete pronti? Allora, stupido zombie, vieni qua. Uno, due e tre! Delle frecce. Mi ha droppato delle frecce. Uno zombie mi ha droppato delle frecce. Vabbè, io non ho parole. Andiamo ancora più giù, allora. Vediamo se c'è qualche altro zombie decente. No, creeper, no, creeper. Creeper, no, creeper. No, creeper. Ho detto zombie, non creeper. Ho detto zombie. Ok, perfetto. Almeno è morto. Ok, dai, raga, dobbiamo trovare degli zombie. Di solito si trovano dappertutto. E ovviamente oggi non so, ne trovate bene uno. Mannaggia, allora. Dovete gridarlo, raga. Adesso, mentre guardate, dovete gridare zombie! No, eh. Mi sa che non ha funzionato. Allora, io uno zombie l'ho trovato. Ok, forse ne ho trovati abbastanza adesso, per fortuna. Quindi uno, ok, bam. Allora, dobbiamo fare in fretta, ragazzi, perché droppare robe OP. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Ok, sì, forse adesso sono un po' troppi, eh. Stiamo un po' esagerando. Quindi facciamo così. Ok, perfetto. Almeno tutto bene quel che finisce bene. Signor creeper, lei può anche andare a esplodere da un'altra parte, eh. Senza rompermi le scatole. Vediamo, uccidendo un po' di questi zombie, ragazzi, cosa ci droppano. Allora, per ora abbiamo una pozione di swiftnet e un tridente, che in realtà non è male. Cos'ha questo tridente? Se lo lancio mi ritorna. Ok, perfetto. Vai così. E vai. E dai, eh. E uno. E due. E... Eh no, stupido scheletro, però tu adesso vuoi le botte, eh. Vuoi, vuoi le botte, stupido scheletro. Guarda, sono più forte di te. Oh, mannaggia. Ok, forse sei forte anche tu. Sei forte anche tu. Parliamone. Ok, è morto. Per fortuna. Mamma mia, ragazzi. Che ansia. Che ansia. Però per fortuna abbiamo queste cose qui. Ok, cosa sto tra i denti in realtà? Loyalty 20. Impaling channeling and breaking. Perfetto. Direi che va benissimo così. Allora, salve, signor zombie. Uh, le enderpearl. Che belli... Sono sopravvissute, ma di raccogli. Ok. Abbiamo una pozione della velocità e una pozione di haste. Interessante. Quindi facciamo già così, ragazzi. Sistemiamoci già tutte le cose. Direi che siamo messi bene, perché abbiamo anche 32 blocchi di nederite. Chissà come mai. Chissà cosa servono poi 32 blocchi di nederite, eh? Assolutamente a niente. No, no. Infatti non li utilizzeremo nemmeno. Guarda, penso a te. Vabbè. Allora, andiamo a cercare altri zombie, direi. Sì. Decisamente. Stupido. Scheletro, mannaggia te. Allora, io non ci credo, però. Ogni volta trovo delle caverne così grosse, ragazzi. Cioè, è veramente qualcosa di... Dove ha senso? Qualcosa di più piccolino, per favore? No, eh? Qualcosa di più piccolino. No, però là ci sono dei diamanti. Vedete, se io punto dritto là, ci sono dei diamanti. E qua ci sono degli zombie. Non l'ho preso. Vabbè, eh... Dobbiamo andare... Dobbiamo andare a trovarli, allora. Dobbiamo andare a trovare i nostri amici zombie. Mi servirebbe anche un piccolo pezzettino di ferro e... E... Dell'altra stone. E... Quello che poteva droppare una pala. Vabbè, sentite, facciamo così. Risolviamo la diatriba tra questi due. E poi utilizziamo l'arco per uccidere il nostro caro amico zombie. Ok, anche lui cosa mi ha dato? Una pozione di strength. Non male. Questa ce la teniamo, ragazzi. E il tridente, ovviamente, ce lo dobbiamo mettere... Ehm... Qua, qua. Così, direi. Ehm... Bene, non abbiamo più bisogno del piccone, ragazzi. Abbiamo già tutto quello che ci può servire. In realtà ci mancherebbe un'armaturina. Non sarebbe male una piccola armaturina. Mannaggia, ho sbagliato. Non sarebbe male un'armaturina. Devo andare a trovare un'armatura. Devo andare a trovare un'armatura. Pochissima vita. La la la. Va di scappare da qua. Oh, cacchio. Ma è pieno di scheletri in questa posta? Via! Ok. Ma non ne posso più. Ok, raga. Sono riuscito a salvarmi. Ho rifatto tutta la vita. E adesso ci siamo. Allora, stavo dicendo. A me serviva un piccone. Ma in realtà non mi serve più. Mi potrebbero servire dei diamanti. Magari questo... Fortuna 20, ragazzi. Devo ritornare dove ero prima. Perché se trovo un diamante, in teoria dovrei tipo averne abbastanza per potermi fare tutta l'armatura. Non sarebbe per niente male. Quindi... Eh, ho trovato un mineshaft. Eh, va bene. Nel senso... Va bene lo stesso, eh. Per l'amor di Dio. Però vorrei un blocchettino di diamante. Se da... Da qualche parte, sapete com'è. Insomma. Devo scavare così per trovare dei diamanti? Oh, mio Dio, ragazzi. A parte che non abbiamo il banco per fare i diamanti. Quindi... Cioè, per fare le robe inederite. Quindi... Andiamo a cercare degli zombie che facciamo prima, va? Ok, uno è morto. Oh, cacchio, no, ho sbagliato. Ho tirato l'ender per non avrei dovuto farlo. Mannaggia a me. Ok, Buddy. Lo puoi fare. Ce la puoi fare. Gli zombie sono stupidi. Dai, Buddy. Sono stupidi mai quanto me, però sono stupidi. Oh, mio Dio. Sta per morirci. Me lo sento. Me lo sento che tra poco muoio. Me lo sento. Oh, cacchio. Non devo morire. Non devo morire. Devo... Devo riprendere il mio tridente. Dov'è il mio tridente? Il mio tridente è proprio qua. Ok, perfetto. Andiamo così. Abbazzevoli tutti. Vediamo cosa mi danno questi. Dai. Su. Veloci. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma. Santissima. Ok, perfetto. È difficilissimo, ragazzi, con gli zombie. Uh, diamanti. Questi non sono per niente male. E dei fuochi d'artificio. Wow. Non troppa roba inutile, tranquilli. Divertitevi pure a darmi cose inutili, amici miei. Ok, questa cos'è? Vabbè, ma potremmo utilizzarle qualche pozione ogni tanto, no? Fire resistance, haste. Ce n'abbiamo un bel po'. Sì, potremmo decisamente utilizzarle. Beh, 32 diamanti direi che bastano. Possiamo farci almeno l'armatura in diamante per poter sopravvivere in questo diamine di mondo. Uh, ok, perfetto. L'armatura in diamante ce l'abbiamo. Quindi siamo anche messi bene. Abbiamo una balestra. Buttiamo via le cose che non ci servono, ragazzi. Le cose inutili, quelle robe lì, non utilizziamole. Ok, perfetto. Ora è il momento di andare nel nether, direi che siamo messi abbastanza bene. So che però uccidendo uno zombie giusto, lo zombie giusto, chiamiamolo così, c'è la possibilità di droppare un'arma che ha tipo sharpness 200 milioni. Quindi, cioè, un colpo sul drago, bam, lo salutiamo e va al baretto. Però, al momento non l'abbiamo ancora trovata. Vabbè, poco male, io direi. Comunque, va bene lo stesso. Allora, andiamo via di qua. Però sento degli altri zombie, eh. Tipo tu sei un altro zombie. Mm, mamma mia, perfetto. Ok, cosa mi hai droppato? Niente. Probabilmente non mi ha droppato niente perché non avevo le... Vabbè, allora, tanto ce ne sono tanti i zombie in questo mondo, a quanto pare, eh. Cioè, non li schifiamo, assolutamente. E basta, adesso ha uno scheletro. Sapete cosa rispondere a uno scheletro? A uno scheletro, rispondi con la loro stessa medicina. Ok? Ah, bello, pure uno spawner di zombie. Ma sono stupido, ragazzi. Che erano spawner di zombie, quello. Oh, mio Dio. Mi sono dimenticato che mi servivano gli zombie. Beh, uh, pantaloncini innederite. Vediamo subito che pantaloncini sono. Buttiamo via questi. Vabbè, ci servono comunque. Ci andiamo a protezione un bot. E qua c'è una golden apple che ci pigliamo. E non ci fa mai schifo. Va buono, dai. Facciamo così. Ah, ma tanto ne abbiamo un 16 OP. Ok, va bene. Fantastico. Ok, è il momento di andare nel nether, ragazzi. Su, dai, facciamo sto portalino. Uno, due. Perfetto. E andiamo nel nether. Uh, bello. Mi ha droppato una zappa, ragazzi. Ok, intanto mi sono fatto più o meno tutto quello che mi potrebbe servire. Però sento altri zombie. Sento altri zombie. E questa zappa è veramente ignorante. Oh, sì. Perfetto, caro amico zombie. Vieni qua. Oh, sì. Tutti vi voglio. Così, ragazzi. Dovete dropparmi le peggio cose. Pure le pozioni di enchant. Vabbè, andiamo nel nether, eh. Oh, mi hanno droppato anche un arco veramente carino, ragazzi. Con infinity. Allora, usiamo il nostro flint e steel e andiamo. Così i blades non hanno più... Oh, ma salve. Sapete che non può nulla l'header contro di me. A parte che ci servono solo i blades. Perché poi le enderper ne abbiamo abbastanza, secondo me. Quindi, ci sta. Signori blades, salve. Dove, dove siete? Allora, la protezione l'abbiamo trovata. E questo mi sembra proprio quello che mi serve. Salve, signori blades. Come state? Ah, ma sì, sono resistente al fuoco. Non ve l'avevo ancora detto. Allora, fatemi usare però qualcosa di decente, ragazzi. Devo sistemare un attimo l'inventario. Cosa che non faccio mai, mannaggia a me. Allora, là l'XP non ci serve. Ci serve solo uccidere i blades. Perché mi servono le blades, Rod. Ah, i blades muovetevi. Non ho tutto il giorno, mannaggia a voi. Dovrei trovare tipo qualcosa con looting dovrei avere. Magari questo qua c'ha looting. Non lo so. Vediamo cosa potrei vedere se ha looting. Allora, dai, muoviti. Ok, quanto ne abbiamo? Undici. Ma come undici? Ma che cavolo? Allora, muoviamoci, raga. Dobbiamo andare. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Tutto ciò è molto bello. Utilizzare anche queste come cibo è ancora meglio, sapete? Vabbè, è il momento di uscire dal Nether. Perché in realtà siamo già po... Oh, cacchio. Quello non dovevo picchiarlo. Ok, sì, vabbè. Siamo troppo forti, ragazzi. È inutile che ci sfidano. Guardate quanto cavolo siamo forti. Devo andarmene. Dal Nether, ovviamente. Allora, stupido zombie. Sarà meglio per te che mi droppi qualcosa di... Uh, bellini anche questi. Cosa mi hai droppato? Allora, quelli e... Allora, che qui c'ho delle zappe? Non lo so. Fatemi sostituire questa. Raga, ce l'abbiamo! Raga, abbiamo la cosa più OP. Raga, abbiamo quella più... Quella super OP. Raga, abbiamo quella super OP. Oddio, ma è bellissimo! Ok, è il momento di andare nell'End. Signori... Oh, mio Dio, raga, ma... Che bello! Sì, esplodete tutti! Sì! Sì! Ragazzi, mi sto divertendo troppo! Sì, sì! Ok, basta, forse la smetto. Vabbè, andiamo nell'End, dai. E dovremmo andare proprio... Tira! No, prima o poi lo posso trovare, eh. Prima o poi lo trovo... Ok, perfetto, l'abbiamo trovato, ragazzi. Vai! È il momento, Buddy. Non c'era nemmeno un occhio. Ma quanto sono sfigato io, scusatemi. Vabbè, andiamo! Uff! Ok, siamo nell'End. Siamo nell'End. È bella questa piattaforma di spawn. Signor Drago, dovrei parlare con lei un attimo. Giusto per vedere se riesco a finire... Sa com'è? Ma che bello, raga, li shotto, sti cosi! Vabbè, queste non ci servono più. Signor Drago, venga qui, dai, su! In teoria, se shotto questi, dovrei shottare qualunque tipo di cosa, no? Cioè, tipo, se faccio puff, pum! No, li sto guardando un po' troppo, però, ok? Basta, Buddy, basta! Ok, già che ci siamo, anche la pozione di Strength, mentre aspettiamo il nostro caro Drago. La pozione di tutto, ragazzi. Beviamo tutto, tutte le pozioni che abbiamo. Così almeno sto Drago si muove a scendere, mannaggia lui. Dai, veloce! Signor Drago! Ci può muovere, per favore? La prego! Signor Drago non ho tutto il giorno da perdere qui io, capito? Dai, ma stai zitto tu, cosa vuoi? Forse scende. Ma non capisco con questa diamine di nebbia! Ok? Ok, dai, scendi! Ma, a parte che qui forse, in teoria... Se solo avessi la pozione di Jump Boost, mannaggia me! L'avrei tipo già iper-shottato, sto coso! Ok, sembra che stia scendendo. Sì, che viene giù, dai! Vieni qua, Chico, che ti do un bel bacino, bello... Bello potente con starma qui, dai! Dai che muori! Dai che muori subito! Vai così! Vai così! Ok! Ha uno sputo di vita! Ha uno sputissimo! Sììììììì! Mamma mia, ragazzi! Queste armi OP e Buddy sono una coppiata vincente! Signori, ci vediamo ad un prossimo video! Ciao, belli!